Gio Luca, com'è andata questa tre giorni abbastanza sofferta qui a Sintonia? È andata meglio del previsto, meglio di quanto sperassi. Siamo un pochino tornati ai fasti del Top Audio, che è finito nel 2011-2012. A me è piaciuto molto e lo ripeteremo. Sì, sì, lo ripeteremo. Tanta gente. Senti, cosa avevi qui? Qua avevo NZ7JVC Laser 8K, che poi proprio nel momento in cui è stato ribassato di prezzo, da 11.000 a 9.000 euro, poi c'era l'Umagen Radiance Pro, poi c'era il Global Commander 8K e tante cose di contorno importanti, diciamo, che fanno un po' il globale dell'impianto e della qualità.